Ciao a tutti, benvenuti su Gossip e Newsita. Oggi abbiamo un'importante notizia da condividere con voi riguardo a Beatrice Luzzi, concorrente del Grande Fratello. Quindi, prima di iniziare, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale, lasciare un bel mi piace e commentare questo video. Vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto costante, siete fantastii. Quindi, passiamo direttamente alla notizia. Beatrice Luzzi ha lasciato improvvisamente la casa del Grande Fratello a causa della tragica morte del padre Paolo. Una notizia che ha colpito tutti noi profondamente. Il padre di Beatrice era stato sottoposto a un intervento chirurgico poco prima di Natale, ma purtroppo le sue condizioni di salute si sono aggravate in modo improvviso. Abbiamo appreso della triste notizia attraverso uno dei post dello staff di Beatrice sui social media. Su Instagram è apparsa una foto nera con una semplice didascalia che annunciava la morte dell'architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Vogliamo mandare le nostre più sentite condoglianze a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i familiari. Beatrice ha deciso di lasciare la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari. Naturalmente, la notizia ha avuto un impatto sul programma Grande Fratello. A causa dell'uscita di Beatrice Luzzi, il televoto che coinvolgeva Monia Laferrera, Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello è stato annullato. Ma il programma continuerà a proseguire come sempre. Prima di concludere, vorremmo ringraziarvi ancora una volta per aver guardato questo video su Gossip e Newsita. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, lasciare un mi.